per chi ha pensato che a scene di un matrimonio di berkman era interessante tanto interessante a trasportarlo ai giorni nostri guardi sembra interessante parlare di matrimoni e rapporti all'interno di questi e poi era interessante prendere tutti questi temi direttamente dagli anni 70 e spostarli ai nostri giorni per vedere come è cambiata la società ovviamente in questi casi bisogna capire come fare e quale punto di vista adottare prendete shakespeare per esempio quante volte avete visto le sue commedie in teatro o al cinema nel corso degli anni perciò berkman come shakespeare certo serie di matrimonio è talmente iconico che come shakespeare vedrete che nella mia serie ho cambiato certe cose ho scambiato per esempio i ruoli nel mio è la donna ad avere la storia d'amore e lei la più forte e perché questo sono cambiate così tanto le cose dagli anni 70 oggi ho voluto dare una parvenza di modernità subito renderlo accessibile alla mia sensibilità questo rapporto tra uomo e donna in cui lui non è il maschio alfa e lei la forte mentre lui è più morbido soft man ai forti su dati di a berkman aveva un punto di vista protestante in tutti i suoi film lei ebreo che cosa cambia i think christianity the very more abstract idea del balcino india credo che nel cristianesimo l'idea dell'amore è un concetto più astratto nell'originale c'erano dei lunghi monologhi che affrontavano il tema in modo anche spirituale nell'ebraismo tutto è più diretto secco fare diventare il personaggio dell'uomo un ex ebreo ortodosso mi ha aiutato di dire qualcosa di più sul diventare un uomo nuovo come dire farli subire un cambiamento radicale rinunciare a quella mascolinità che troviamo nel personaggio di berkman anche se devo ammettere che questi due e caratteri sono dei caratteri secolari i from the original berkman series with secular you know